Nella sua libreria i libri vanno a ruba o li regalate? Allora, diciamo che nella mia libreria i libri si regalano perché a Natale il dono più bello è quello di un libro praticamente e quindi ho deciso di regalare i libri. Dal 6 dicembre fino all'ultimo dell'anno ho donato oltre 500 libri e questa cosa mi ha fatto felice. Noi eravamo rimasti alla libreria del reparto di oncologia e adesso passiamo a questi quasi 500 libri, perché? Perché quella di un libraio indipendente in una piccola città di provincia deve essere una missione. Non bisogna mai pensare troppo a se stessi ma bisogna pensare soprattutto agli altri, soprattutto a chi non ha. E a me fa piacere rendermi utile per la comunità e per chi ha bisogno. Me lo sono imposto nella mia vita e su questo punto sono molto fiscale e sto educando anche mia figlia in tal senso. Esistono grazie e grazie. Qual è stato il grazie più bello? Che non dimenticherà mai. Allora, il grazie più bello che mi ha procurato grande emozione è stato quando mi arrivavano i messaggi Whatsapp, perché il mio numero di telefono è visibile a tutti, direttamente dalla sala di attesa del The Hospital, dove tante persone mi inviavano una foto del libro che avevano scelto in un momento per loro molto delicato. E questa cosa ha brividi.